Pancho Villa e la Rivoluzione Messicana Francisco Pancho Villa, seudonimo di Osè Doroteo Arango Arambula, fu uno dei protagonisti più importanti della Rivoluzione Messicana, che durò dal 1910 al 1920. Villa nacque nel 1878 da una famiglia di contadini poveri nello stato di Durango. Da giovane fu un bandito, ma nel 1910 aderì alla Rivoluzione contro la dittatura di Porfirio Diaz. Villa era un leader carismatico e un abile stratega militare. Le sue forze guerrigliere, conosciute come villisti, erano temute da nemici e amici. Villa era anche un uomo di grande generosità e compassione per i poveri e gli oppressi. Villa giocò un ruolo decisivo in molti degli eventi più importanti della Rivoluzione. Fu uno dei comandanti che conquistò Ciudad Juarez nel 1911, evento che segnò la caduta di Diaz. Nel 1913, dopo l'assassinio del presidente Madero, Villa si alleò con Emiliano Zapata per combattere il nuovo governo di Victoria Noerta. Nel 1914, Villa guidò una delle vittorie più importanti della Rivoluzione, la battaglia di Zacatecas. Questa vittoria contribuì alla caduta di Huerta e al ritorno di Madero al potere. Dopo la morte di Madero nel 1913, Villa e Zapata continuarono a combattere contro il governo di Venustiano Carranza. I due leader rivoluzionari avevano visioni diverse per il futuro del Messico, e questo portò a un conflitto tra loro. Nel 1915, Villa fu sconfitto da Carranza nella battaglia di Celaia. Dopo questa sconfitta, Villa si ritirò nel nord del Messico, dove continuò a combattere contro il governo. Nel 1920, Villa fece un accordo di pace con Carranza. Si ritirò dalla vita politica e si dedicò alla gestione delle sue proprietà terriere. Pancho Villa fu assassinato nel 1923. La sua morte segnò la fine della rivoluzione messicana, ma la sua figura continua ad essere un'icona del movimento rivoluzionario. Il ruolo di Pancho Villa nella rivoluzione messicana. Pancho Villa giocò un ruolo fondamentale nella rivoluzione messicana. Le sue forze guerrigliere furono un elemento determinante per la caduta della dittatura di Diaz e per la vittoria dei rivoluzionari. Villa era un leader carismatico e un abile stratega militare. Le sue vittorie in battaglia contribuirono a diffondere la rivoluzione in tutto il Messico. Villa era anche un uomo di grande generosità e compassione per i poveri e gli oppressi. Questo lo rese un'icona popolare tra le masse messicane. Villa era spesso raffigurato come un Robin Hood messicano, che combatteva per i diritti dei poveri e dei diseredati. L'eredità di Pancho Villa. Pancho Villa è una figura controversa, ma la sua importanza nella storia del Messico è innegabile. Villa fu un eroe per molti messicani, ma fu anche un uomo violento e sanguinario. La sua eredità è complessa e multiforme, e continua ad essere oggetto di dibattito. Villa è stato un simbolo di rivoluzione e di libertà per molti popoli oppressi del mondo. La sua figura è stata spesso utilizzata dalla propaganda anti-imperialista. Villa è anche un simbolo di riscatto sociale, e la sua storia è stata fonte di ispirazione per molti movimenti di lotta per i diritti dei lavoratori e dei poveri. Pancho Villa è una figura complessa e affascinante, che continua ad esercitare un grande fascino sul pubblico. La sua storia è una storia di rivoluzione, di violenza, di amore e di riscatto sociale. Grazie. 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 Grazie.